buongiorno a tutti i miei cari amici innanzitutto devo ringraziarvi per avermi permesso di raggiungere i 1000 iscritti tutto questo senza di voi non sarebbe possibile oggi andiamo in russia e parliamo del cane dal pastore del caucaso morfologia sezione 2 molossoidi e cane la montagna fc 328 gruppo 2 origini di questa come di altre razze russe non si conosce praticamente nulla l'enigma da risolvere per gli appassionati a quattro zampe è la ricerca di tracce che rivelino l'origine e la storia dei loro leali compagni proveniente dall'ex unione sovietica sebbene l'era moderna abbia reso più semplice il contatto i russi stessi non hanno informazioni precise riguardo alla razza in quanto questa è stata allevata principalmente dai pastori caucasici dal 1979 ha iniziato ad apparire sui ring internazionali di esposizione e oggi è una razza abbastanza diffusa cane robusto massiccio con fortissima ossatura e muscolatura la testa con cranio largo e zigomi ben sviluppati assomiglia a quella di un orso muso più corto del cranio poco affilato tartufo largo e nero occhi scuri e piccoli di forma ovale ed infossati sfoggia orecchie pendenti che si inaltano maestose schiena possente ampia e dritta arti dritti paralleli e forti e l'ossatura poderosa coda attaccata alta e lunga fino al garretto portata pendente a falce a uncino oppure ad anello il pelo può essere lungo semilungo e corto colore a zone grigie consumature tendenti al russiccio tigrato omaculato il pastore del caucaso è un nobile cane di tra dai tratti fieri e risoluti che ha saputo adattarsi e sopravvivere nel corso dei millenni grazie al suo coraggio e alla sua determinazione è un cane territoriale diffidente nei confronti degli estranei ha un forte istinto di protezione nei confronti del gregge e della propria famiglia con la sua perspicace sensibilità affiliate come la zoe il nostro compagno a quattro zampe possiede un radar per captare la presenza del rispetto da parte del suo padrone e quando la percepisce è lieto di offrire le sue zampe per aiutarlo in qualsiasi compito con la sua anima di pastore e l'istinto protettivo nel cuore questo cane non richiede addestramenti eccessivamente i complessi acquistano con rapidità come per molti altri cani da pastore che vivono all'aria aperta l'alimentazione ricopre un ruolo fondamentale infatti il suo alimento principale dovrà essere la carne accompagnata però da fibre vitamine carboidrati e sali minerali questo è tutto ciò quello di cui sono potuto recuperare più o meno su questa razza per cui il nostro piccolo video finisce qui io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao a tutti da Fido Tutorial